Un test importante per entrambe le squadre, candidate a recitare un ruolo di primo piano nel super genone H di Serie D delle 11 squadre pugliesi. L'1 settembre non sono scese in campo, questo pomeriggio alle 15 Udace Cerignolo e Casarano sono pronte a sfidarsi al Monterisi per recuperare il match della prima giornata non andato in scena per le vicende legate all'eventuale ripescaggio in C dei Giallo-Blu. Il tira in molla che ha caratterizzato l'estate degli Ofantini si è chiuso proprio due giorni prima del recupero contro i Rosso-Azzurri. Intervenuto telefonicamente nel corso della prepartita di Bari-Regina sul Rai Sport, il presidente del Cerignolo Nicola Grieco ha siglato una sorta di pax forzata con il presidente della Lega Pro Ghirelli, affermando di non portare rancore nei suoi confronti o in quelli della FIGC, ma ribadendo allo stesso tempo il proprio rammarico per il mancato ripescaggio e per il danno subito anche a livello sportivo, visto il ritardo nell'allestimento di una squadra costretta ad inseguire sul campo la pruta tra i professionisti. L'inseguimento dopo il successo con il Grumentum di domenica scorsa passerà naturalmente anche dalla sfida al Casarano. Lo Iodici e compagni sfideranno una squadra che dopo il bruciante capò con il Taranto ha inflitto un perentorio 4-0 al Brindisi, ribadendo le ambizioni di vertice già manifestate in estate con acquisti del calibro di Matera, Olcese, Tiscione e Ciro Foggia. Proprio il bomber, protagonista l'anno scorso in giallo-blu, sarà l'ex più atteso di un match che promette già scintille.